L'abbazia di Calena, tra le più antiche esistenti sul Gargano, è un'appartenenza che ha a che fare con la datazione del 1000, anno più, anno meno, documentata nel 1023, è un'abbazia donata in quella datazione, ecco perché abbiamo questo documento che ci attesta la sua nascita effettiva, un documento che ha a che fare con questo lascito dell'abbazia di Calena alla grande abbazia madre di Santa Maria Mare delle Isole Tremiti. Ma le attività erano innumerevoli, è un'abbazia inizialmente benedettina, quindi questi frati arrivano in questo luogo e qui esercitano le loro funzioni spirituali, ma anche sicuramente, ecco, questo territorio diventa molto ricco, i papi e i imperatori donano, diventa di una ricchezza inestimabile che ha a che fare con tutto il nostro territorio garganico e non solo, arriva anche a territori più importanti, infatti contesa tra le grandi abbazie, come quella delle Isole Tremiti e come quella di Monte Cassino. Io sono stato appena eletto, quindi a maggio 2023, e la cosa che abbiamo immediatamente attivato è la possibilità di destagionalizzare, quindi di attivare una serie di percorsi che riguardano anche l'abbazia di Calena, perché per noi peschiciani è una delle principali attrattive, anche se in questo momento non versa in buone condizioni. Recuperare Calena rappresenta un ulteriore itinerario oltre al mare, potrebbe essere quel turismo religioso o quel turismo storico alla ricerca di percorsi. Innanzitutto c'è una felicità enorme, un orgoglio senza precedenti, anche per essere stato proprio io, diciamo un po' l'artefice, il deus ex machina di questa trattativa andata in porto. Proprio un mese e mezzo fa io ho dichiarato pubblicamente, proprio su una testata giornalistica, che avrei voluto che Calena venisse aperta alle guide e alle visite, e quindi volevo che ci fosse fruibilità. Ecco, a distanza di un mese e mezzo, dopo 30 anni di stallo, sono riuscito nel mio intento e quindi sono venuto, io abito in Repubblica Ceca, sono venuto appositamente da Praga per godere di questo momento storico, diciamo. Naturalmente mi ha inorgoglito il ringraziamento sia del sindaco che di tutta l'amministrazione comunale, che dell'arcivescovo D'Ambrosio, che mi ha ringraziato per questo mio obiettivo, per questo mio traguardo, e speriamo solo che sia non solo un traguardo, ma un punto di partenza. Sicuramente ci sono possibilità, ma addirittura posso annunciare che già da domenica, dopo domani, ci sarà la seconda visita e poi ce ne saranno una o due a settimana, dipende dalle prenotazioni naturalmente, però, ripeto, è un primo passo che è comunque estremamente importante e significativo.